ciao a tutti oggi ci prepariamo un bel dessert veramente gustoso un bel budino di mandorle vi do gli ingredienti per una persona ci vorrà un uovo meglio se bio dell'amido di mais maizena 30 grammi del latte di mandorle 200 cc mezzo cucchiaino di granella di mandorle e il nostro ingrediente segreto procediamo vi ricordo che mangiando un uovo dovremo mangiarne un altro nello stesso pasto magari una bella insalatona con un uovo sodo aggiungiamo il latte di mandorle alla maizena e mescoliamo bene un consiglio se vi piace dolce aggiungete magari una puntina di stevia aggiungiamo l'uovo e mescoliamo bene il tutto aggiungiamo anche le mandorle a lamelle ma ne terremo un pochino da parte per guarnire e gli diamo un'altra mescolatina versiamo il contenuto in uno stampo adatto per il microonde se come me lo cuocerete in microonde oppure per il forno normale vi ricordo intanto di iscrivervi al mio canale così ogni settimana riceverete gratuitamente la mia ricetta e adesso prima di cuocerlo però dobbiamo nascondere all'interno il nostro ingrediente segreto e a questo punto lo cuoceremo il tempo di cottura però dipenderà anche dalla grandezza del vostro contenitore quindi vi direi cominciate con cinque minuti a massima potenza ed eccolo cotto normalmente cinque minuti bastano basta che lo agitiate un po e vedete se abbastanza denso ora lo lasceremo raffreddare e poi lo mettiamo in frigo un paio di ore ed ecco impiattato il nostro budino bellissimo buonissimo e vi svelerò l'ingrediente segreto a questo punto sono proprio 5 6 uvette nascoste dentro che si intravedono che faranno diciamo da sorpresa vi faccio vedere l'interno ed eccolo qui il nostro budino è veramente gustoso provatelo e fatemi sapere se vi è piaciuta la ricetta condividetela con chi ha bisogno di perdere peso senza fare troppa fatica ciao alla prossima ricetta